Dopo un anno di serrate indagini, la Guardia di Finanza della compagnia di Treviso è riuscita a chiudere il cerchio su un giro di fatture false per oltre 12 milioni di euro, con IVA e VASA per quasi un milione e mezzo di euro. Con l'operazione Sarto, gli uomini della Polizia Tributaria hanno arrestato il titolare di un'azienda tessile, un imprenditore cinese di 40 anni, e indagato 10 persone, tra loro due italiani. La Guardia di Finanza ha inoltre ottenuto il sequestro preventivo di beni per 1 milione e 200 mila euro. Al centro delle indagini, un imprenditore di origine cinesi, residente a Istrana, attivo nel confezionamento di capi d'abbigliamento, che si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Santa Bona. L'uomo risulta essere titolare di tre aziende tessili della Castellana, tutte intestate a prestanome e con una ventina di dipendenti. Si tratta di aziende che lavorano come terziste per conto di altre ditte impegnate nel mondo della moda. L'imprenditore che è stato colpito dalla misura cautelare è un imprenditore di origine cinese ma perfettamente integrato. Nel complesso sono 10 gli indagati per reati fiscali e per riciclaggio e 6 sono le aziende interessate coinvolte nella frode fiscale. L'imprenditore aveva escogitato un modo noto per evadere, nascondendosi dietro a delle feste di legno, tra cui anche due italiani, che figurano tra i 10 indagati, era riuscito a frodare il fisco con fatture false emesse da tre società inesistenti, riconducibili a cittadini cinesi, due delle quali con sede formale a Venezia. Il dato significativo è che abbiamo sequestrato beni per oltre un milione di euro e come sapete il fine principale di queste indagini è proprio il recupero delle ricchezze illecitamente accumulate. All'imprenditore tessile la magistratura ha disposto il sequestro preventivo di 12 unità immobiliari di proprietà del quarantenne, vari appartamenti con relativi garage, laboratori e offizzi.